Rafforzare i controlli, creare una rete di imprese virtuose e offrire un'accoglienza adeguata alle migliaia di lavoratori migranti stagionali attesi in Basilicata. È l'obiettivo del tavolo permanente anticaporalato che si è riunito in prefettura, potenza e che ha affrontato in particolare la situazione nell'Alto Bradano. Qui a Palazzo San Gervasio sorge un centro di accoglienza che entro fine giugno aprirà i battenti. Il centro di Palazzo San Gervasio sarà strutturato tra i 250 e i 300 numeri di accoglienza, si sta già chiudendo la procedura di gara. Ma è sulla sensibilizzazione alle imprese agricole che punta la prefettura. Proprio con questo obiettivo, cioè quello di allargare, lo sapete, il sistema della rete, non a caso parliamo di rete, della rete del lavoro agricolo di qualità. C'è una crescita ancora modesta nei numeri. Solo 20 finora le aziende che hanno aderito alla rete, ma secondo il prefetto già questo è un dato incoraggiante e un'ulteriore novità riguarda le verifiche alle imprese. Quest'anno sapete che c'è un progetto che è sviluppato in particolare dall'Ispettorato della Lavoro, che questa volta si allarga non solo ai controlli sulle aziende agricole, ma anche ai controlli sulla logistica, che sono strettamente collegati e che hanno già dato alcuni segnali di un certo interesse, perché soprattutto in quest'ultimo settore hanno riscontrato alcune posizioni di irregolarità. Su 25 aziende controllate ne sono state sanzionate 6, nessun caso di caporalato fortunatamente, ma la tensione resta alta perché la stagione estiva passi senza problemi.